Ciao a tutti, l'accordo che vediamo oggi è un Do minore settima, suonato con la tonica sulla sesta corda ottavo tasto, in questa posizione. Vediamo come è formato questo accordo, abbiamo sull'ottavo tasto, in sesta corda, la nota Do, che è la tonica, poi abbiamo sempre sull'ottavo tasto, ma quarta corda, la nota Si bemolle, che è una settima minore, dista un tono dalla tonica che è il Do, quindi è una settima minore. Sull'ottavo tasto, terza corda, abbiamo la nota Mi bemolle, che rispetto alla tonica è una terza minore, dista due toni e mezzo dal Do, Mi bemolle, quindi tonica, settima minore, terza minore e infine sull'ottavo tasto, seconda corda, abbiamo la nota Sol, che rappresenta dalla dominante, quinto grado, quindi questo accordo è formato dalla tonica, dalla settima minore, dalla terza minore e dalla quinta giusta. Grazie. 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 Grazie.